Sono Stefano Tomasini, CIO di E-NAIL. Abbiamo avviato il nostro progetto di Enterprise Architecture qualche anno fa, già da cinque anni, con la finalità di avere nell'Enterprise Architecture il motore di tutta l'architettura dell'istituto sotto il profilo dei processi, dei dati e dell'infrastruttura. Oggi abbiamo raggiunto un discreto livello di maturità, presto ci dovremo confrontare con ulteriori step quali quelli relativi all'allargamento del dominio di interesse dell'Enterprise Architecture in particolare non solo riferita ai processi IT ma anche ai processi di business. abbiamo avviato questa attività su qualche ambito, ci consente di interfacciarci con le strutture di business in particolare con l'area rischi in maniera strutturata, condividendo anche informazioni sui dati e sui processi oltre che integrare le rispettive applicazioni a contorno. Il tema delle competenze è un tema rilevante, abbiamo avviato alcune iniziative tra le quali appunto quella relativa alla formazione di alcune nostre persone particolarmente strategiche dal punto di vista della collocazione organizzativa facendole partecipare ai master EMIT della LUIS e di HSP proprio con l'intento di creare quel numero di persone che abbiano al loro interno la cultura sufficiente per condurre in porto questo tipo di attività. Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!